Tanti applausi e un grazie collettivo. Il Comune di Trento ringrazia Trentino Volle in una cerimonia a Palazzo Geremia dove accoglie la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale. Al Presidente Mosna il Sindaco Andreatta dona un quadro che ritrae Piazza del Duomo, simbolo della gratitudine di tutta la città per aver portato Trento sulla vetta del mondo. Ho detto loro che sono i nostri ambasciatori, hanno portato il nome di Trento in Europa, in questo caso addirittura nel mondo, costruiamo a partire da questo, la città è a loro accanto, è sempre stata a loro accanto, oggi abbiamo voluto dare ufficialità a un grazie. Una squadra che il Trentino continuerà a sostenere come ha ribadito il neoassessore provinciale Roberto Failoni. Una vittoria che potrà stimolare e invogliare i tanti trentini che giocano a pallavolo, ha detto, prima di garantire un sostegno anche economico alla squadra per i prossimi anni. Una notizia che fa sorridere il già raggiante Presidente Mosna. L'ho registrato e quindi è una bellissima notizia e forse la notizia non scontata, importante che oggi abbiamo ricevuto, che è quella della presenza della provincia anche nei prossimi anni tramite l'attività di Trentino Marketing, quindi io penso sia una bellissima notizia che ci dà ancora più coraggio per affrontare i prossimi anni. Applausi per tutti, dal GM da Re al medico Bertoluzza al team manager Micheletto, per questa vittoria che rompe sì un digiuno, ma un digiuno durante il quale Trento si è sempre seduta al tavolo delle grandi e ha ribadito il presidente della Federazione Trentina Massimo Dalfovo, tra coloro che diedero i Natali all'ITES nel massimo campionato nazionale e il simbolo di questa vittoria, detta di tutti, è il giovane capitano Simone Giannelli. Sono veramente felice di aver portato a casa questo trofeo, in qualche modo abbiamo ringraziato così la società per averci fatto andare al mondiale per il club.